Chi attendeva un casus belli per portare avanti la propria agenda che come dimostreremo prevedeva i seguenti punti? La distruzione di Hamas, una sorta di vera e propria pulizia etnica nella striscia di Gaza e la futura annessione di nuovi territori e soprattutto la possibilità di gestire le acque territoriali di fronte alla striscia di Gaza dove adesso vedremo sono stati trovati degli importanti giacimenti di gas naturale. Sarebbe stato impossibile raggiungere questi tre punti se non fosse accaduto un evento come l'attacco del 7 ottobre che in certi ambienti viene definito l'evento catastrofico e catalizzante. Un evento capace poi di suscitare una reazione che va negli interessi di pochissimi.